Prosegue il percorso del cinema sociale legato al progetto Le abilità diverse della disabilità, la Potipictures torna a conquistare premi importanti, questa volta con il cortometraggio Come se, quali sono stati i concorsi ai quali avete partecipato e quali i premi ottenuti? Abbiamo partecipato all'online Toff Film Festival, che è un festival internazionale di cortometraggi di fama mondiale e siamo arrivati primi in miglior cortometraggio con più di 1000 voti, 1600 visualizzazioni e condivisioni. C'è poi stato un altro concorso, anche questo molto prestigioso e conosciuto all'interno del proprio settore. Sì, l'Acolade Global Film Festival, che è uno dei più grossi, forse il più grosso concorso a livello di cortometraggi, lungometraggi, mediometraggi che si trova a Los Angeles e qui abbiamo vinto il primo premio nella categoria disabilità. La lotta alle barriere architettoniche è la tematica al centro del cortometraggio Come se, da dove è nata la scelta e la decisione poi di affrontare questo argomento? Sì, la sceneggiatura è di Michele Squillace, che leggendo il libro di Saramago, Ciacità, ha avuto questa intuizione conoscendo anche Ilaria Bidini, che da anni lotta contro le barriere architettoniche, ha avuto anche una famosissima intervista con il sindaco Fanfani. Abbiamo unito questa idea in cui il mondo a un certo punto si dovesse fermare e avesse come necessità il confrontarsi con una persona che tutti i giorni invece prova certe difficoltà, insomma anche nel movimento, cose che a noi sembrano banali, che però chi sta su una carrozzina o ha una mobilità limitata chiaramente si trova ad essere in forte difficoltà e a passare notevoli disagi.